bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xuser e oggi ragazzi parliamo di news per quanto riguarda Fortnite e di news ufficiali che arrivano direttamente dal team di Epic Games più precisamente ragazzi dal signor Eric Williamson chi è questo Eric Williamson? è uno che lavora nel team di Epic Games ma non è proprio l'ultimo dalla cucciolata è il general manager il direttore del compartimento grafico quindi quelli che costruiscono proprio i personaggi le armi e tutte le cose praticamente ragazzi si è svolta qualche giorno fa in uno studio in America un'intervista al team di Epic Games e da parte di PlayStation Magazine per avere dei contenuti nel loro format nel loro giornale che uscirà a maggio del 2018 ed è stata posta una domanda molto molto mirata al signor Eric gli hanno chiesto ma voi per caso avete in progetto di creare e di aumentare il numero di giocatori contemporanei che possano essere partecipi in una partita di Fortnite? sì ragazzi è stato detto sì hanno praticamente scherzato sull'argomento ma sembrerebbe che tra le nuove frontiere di Fortnite ci sia anche la possibilità di avere sembrerebbe per un periodo limitato una modalità che possa contenere ben più di 100 giocatori contemporaneamente abbiamo visto qualcosa di simile ragazzi anche quando giocavamo a Rules of Survival soprattutto negli ultimi aggiornamenti di gennaio febbraio nei server giapponesi avevano aumentato a 300 addirittura il numero di giocatori contemporanei che poteva partecipare a uno stesso match voi cosa ne pensate ragazzi di questa novità di questo leaks che è appena uscito dalla bocca di uno dei big di Epic Games sarete pronti a giocare delle partite con più di 100 giocatori pensate che per caso sia troppo confusionario avere così tanti player per quanto riguarda anche il discorso costruzioni, loot di armi, loot di luoghi ditemelo, ditemelo qua sotto ragazzi perché sono molto molto curioso di saperlo beh ragazzi questo era un video aggiornamento per tenervi proprio lì 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 in prima fila insieme a me su tutto quello che passa per la bocca degli sviluppatori di Fortnite io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video vi ricordo un bel pollicione in su se vi è piaciuto e soprattutto iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao 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 ciao